Salve, questo è il video che parlerà di questa esperienza con l'OMAX 3000 e 25 cavalli dietro di me che si è comportato benissimo, da di este ci abbiamo messo un quarto d'ora arrivare qua a pugno chiuso, tra i greci e il pugno chiuso questa è una della grotta di rock di sfonda e ha una bellissima capacità di poter procedere e di poter andare in planata mi fa piacere molto questa registrazione perché mette in luce le caratteristiche tecniche del mezzo e soprattutto la bellezza di questo posto naturale estremamente bello, estremamente simpatico da tutti i punti di vista, tutto la mattina presto anche a motore spento è ancora più bello, diciamo, questo paesaggio di questo posto meraviglioso grazie